La crescita che non arriva, la deflazione, gli effetti della crisi sui consumi, la stretta creditizia, sono tanti freni allo sviluppo delle piccole e medie imprese marchigiane. Molte di loro non ce la fanno più e portano i libri in tribunale. Sono state 281 le aziende che sono fallite nel primo semestre del 2014, con conseguenze pesanti non solo per i dipendenti rimasti senza lavoro, ma anche per i creditori e fornitori. Una catena che a volte mette in difficoltà intere filiere produttive. Secondo i dati Cribis, elaborati dal Centro Studi Sistema per la CNA Marche e Fili Impresa Marche, i fallimenti tra gennaio e giugno di quest'anno sono stati 281 rispetto ai 246 del primo semestre 2013 e ai 229 dello stesso periodo del 2012. La maggioranza delle imprese fallite tra gennaio e giugno apparteneva al comparto manifatturiero, in particolare mobile e moda. Nel 21% dei casi si è trattato di esercizi commerciali, nel 16,7% di aziende dili e nel 14,2% di imprese e dei servizi. Stiamo vivendo una fase di grande difficoltà per le imprese marchigiane, hanno affermato il Presidente e il Segretario di CNA Marche, Gino Sabatini e Otello Gregorini, secondo i quali la recessione che continua e la frenata dell'export nell'ultimo trimestre per il comparto manifatturiero stanno spingendo fuori dal mercato anche imprese che avevano superato con successo la prima fase della crisi. E se la crisi ha fatto aumentare i fallimenti e invece ha avuto l'effetto contrario su cambiali, tratte e pagherode marchigiani. Tra gennaio e maggio i protesti nella nostra regione sono stati 10.541, con un calo del 31,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano stati 15.336. Secondo la CNA Marche la crisi ha spinto i possibili creditori ad accettare con più difficoltà forme di pagamento ritenute non affidabili, mentre imprese e consumatori sono più cauti nell'assumersi impegni economici anche a breve termine. Inoltre, sempre secondo CNA, c'è anche chi fa ricorso al fondo anti-usura per non fallire e per resistere agli strozzini. Nei primi sei mesi di quest'anno, Fidimpresa Marche, il confidi unico di emanazione CNA, ha approvato 21 richieste di ricorso al fondo per un importo complessivo di 388.500 euro.